Allora, deputata Roccella, ha votato bene, ci siamo, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 312, contrari 62, la Camera approva. Siamo alla votazione dell'articolo 10. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Colonnese, Turco, Pratoianni, Cassano, Sgambato, Molteni. Allora, Pratoianni, adesso sta andando il tecnico. Allora, chi altro? Come? Adesso ha votato bene, ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 375, contrari 12, la Camera approva. Siamo alla votazione dell'articolo 11. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Montroni. Mai Nati? No, ha votato. Chi altro? Ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 388, contrari 5, la Camera approva. Siamo alla votazione dell'articolo 12. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. di Lello. Ghebhardt. Allora, ci siamo? Mi pare di sì. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 316, contrari 26, la Camera approva. Allora, adesso...